Riparte anche quest'anno la campagna di sensibilizzazione per il controllo dell'udito denominata Nonno Ascoltami, la prevenzione in piazza. L'associazione Uditi Italia, lo ricordiamo, porta in giro per l'Italia da 15 anni la propria campagna contro i disturbi dell'udito. Nonno Ascoltami farà tappa anche nelle piazze abruzzesi di Pescara e Chieti rispettivamente il 6 e il 13 ottobre. Sì, è straordinario. Dopo 15 anni ancora una volta ci troviamo nelle tante piazze d'Italia in particolare in Abruzzo, Chieti e Pescara proprio domenica prossima per questa iniziativa davvero formidabile e evidentemente di successo perché ancora dopo 15 anni c'è ancora tanta gente che affolla le nostre tende e che chiede l'opportunità di incontrare il proprio medico, di avere dei consigli di poter fare dei controlli dell'udito e questo è lo spirito proprio dell'iniziativa avere la possibilità di dare informazione, sensibilizzare la cittadinanza di tutte le età grandi e piccini e proprio questa nonno Ascoltami in questa immagine vediamo la famiglia intera che è il target di questa iniziativa di sensibilizzazione per quella che è una vera e propria patologia sanitaria ma anche sociale perché sappiamo bene che i numeri sono allarmanti, sono in costante crescita e sono soprattutto sempre più focalizzati sulla fascia dei giovani cosa molto grave per tutte le questioni di ascolto poco sicuro, le cuffiette immaginate il volume alto. I dati rilevano che più di 7 milioni di persone in Italia hanno problemi di udito pari al 12,1% della popolazione, ovvero una persona su tre fra gli over 65 negli ultimi 5 anni inoltre solo il 31% della popolazione ha svolto un controllo dell'udito mentre il 54% non lo ha mai fatto. Non trattare l'ipoacusia, cioè non occuparsi del problema di udito, trascurarlo significa essere condannati all'isolamento, a una minore efficienza, minore autosufficienza quindi è fondamentale cominciare da un controllo dell'udito, è il primo passo da fare un controllo dura 5 minuti, si fa facilmente, si fa anche in piazza tranquillamente con l'ospedale per poi chiedere agli specialisti cosa fare per risolvere il problema di udito prima possibile. A livello mondiale l'OMS stima che circa il 5% della popolazione convive con una perdita uditiva e il futuro non fa sicuramente ben sperare, si prevede infatti che entro il 2050 circa una persona su quattro sperimenterà una forma di diminuzione dell'udito pari a quasi 2,5 miliardi di persone in tutto il mondo. Una delle forme più importanti di prevenzione è una volta accertato il problema risolverlo nella maniera più veloce possibile. sono apparecchi acustici, nel 90% dei casi risolvono ogni problema di udito va consultato il medico e gli specialisti audioprotesisti per risolvere il problema prima possibile perché ogni giorno che passa perdiamo informazioni e l'udito una volta perso non si recupera più se non con strumenti adeguati e il consulto del medico.